salve in questo video parleremo di alcuni extra che non sono rientrati nei video precedenti poi citeremo le parti del manuale che non abbiamo affrontato ed infine alcune mie considerazioni e ringraziamenti prima di tutto rimedio ad una dimenticanza nel video 5 descrivevo la patch bay e dicevo che nella quarta riga nascosta c'era il campo del panning per le tracce audio e il campo overlay per le tracce video il primo l'ho descritto dei modi di sovrapposizione invece me ne sono proprio dimenticato analogamente ai programmi di manipolazione delle immagini come gimp si può ricorrere alla fusione di livelli diversi nel nostro caso tracce diverse per ottenere vari effetti nell'output la versione cv ha cinque modalità di overlay normal aggiungi sottrai moltiplica dividi e rimpiazza la 5.1 ne aggiunge molti altri in particolare quelli detti porter duff portando il numero totale a 30 mi dispiace ma sono davvero troppi da descrivere in più se siete grafici già li dovresti conoscere consiglio di leggere il manuale 5.1 per un'analisi molto approfondita di tutti i modi con relativi esempi chiarificatori passiamo oltre ogni volta che si avvia se ne lerra compare una finestrella con il consiglio del giorno io disabilito sempre questa caratteristica però alcuni consigli sono utili e quindi ne riporterò alcuni 1 contro il più un comando di trasporto fa partire la riproduzione solo per la ragione compresa fra gli in out point 2 clic più drag sul bordo di un effetto ne determina lo spostamento suo e anche tutti gli altri effetti che appartengono allo stesso gruppo usando invece shift più clic più drag si sposta solo il bordo dell'unico effetto su cui abbiamo cliccato anche se appartiene ad un gruppo 3 per armare una traccia basta portarci si sopra con il mouse e poi usare il tasto tab si può anche usare shift più tab per rendere unica la traccia armata 4 alt più freccia sinistra ci fa andare al bordo iniziale della clip alt più freccia destra ci fa andare al bordo finale della clip altri tips li conosciamo già quindi passiamo ad altro comunque se uno li vuole leggere tutti si trovano e non fa il di testo nella cartella tips che si trova nella directory di installazione di sinelera nel mio caso di arch linux si trovano in usr share cin tips nel corso dei video ho affermato il sinelera non possiede un comando di split delle clip perché a differenza degli altri programmi lavora su tracce e non su clip invece con un aggiornamento della 5.1 è stato introdotto un taglio che si estende per uno spazio vuoto e non come normalmente funziona che si estende ad una selezione intera abbiamo così una vera e propria split il comando è il solito x o pulsante forbici si creano così due clip separati da bordi hard che non ho ben capito cosa siano ma vengono distinti da dei triangolini verdi sul punto del taglio sono state introdotte anche le maniglie magnetiche o snapping ne abbiamo già accennato ma dicevo e non mi sembravano funzionare era perché nella release che stavo usando non erano ancora state introdotte con quella successiva invece il tutto funziona perfettamente e questo è un esempio di funzionalità richiesta dagli utenti tramite mailing list purtroppo per mancanza di volontari sinelera non possiede un forum ma la mailing list permette di parlare direttamente agli sviluppatori e al core della comunità ci si rende così subito conto di quanto sia in gamba la gente dietro al progetto competente seria e disponibile verso i novellini ci sono anche molti italiani ma la linguosata purtroppo per me è l'inglese dopo questa sveolinata meritata però passiamo oltre sempre nella 5.1 facendo clic con il destro dentro la finestra risorse c'è un'opzione che personalmente considero molto comoda snapshot serve a creare un'immagine dal frame su cui è posizionato il punto di inserimento si può salvare in jpeg in png o in tiff l'immagine si ritrova nella stessa cartella media della finestra risorse ma scegliamo noi dove fisicamente si trova tramite impostazioni preferenze interfaccia qui io ho scelto home il mio utente download esiste anche grab shot che permette di scegliere una zona del frame tramite il click sinistro e il relativo trascinamento poi si agisce con il click destro per ottenere l'immagine nelle impostazioni della finestra programma ho finora saltato la voce preferenze che serve a configurare se nell'erra nei particolari se clicchiamo su questa voce ci troviamo di fronte ad una finestra con varie schede le prime due riguardano la configurazione di uscita del segnale audio video cioè di ciò che viene riprodotto nella timeline e nelle finestre viewer e compositor nella 5.1 sono due le schede per poter configurare due uscite indipendenti per esempio se usiamo due monitor io ho scelto alza come driver audio e x11 come driver video perché se ricordate nella release che usa attualmente funziona meglio il resto l'ho lasciato di default la terza scheda invece riguarda la configurazione degli ingressi audio video non ho mai registrato un video direttamente insieme l'erra con una webcam per esempio e quindi non ho toccato niente lasciando parametri di default c'è poi la scheda prestazioni in cui ho lasciato a 256 megabyte la memoria cache e ho portato il numero di core della cpu a 6 invece che al massimo che 8 nel mio caso infatti alcuni consigliano di diminuire il numero di una o due unità che restano quindi a disposizione di altri compiti dello stesso programma oppure del sistema operativo l'elaborazione in background non l'ho mai usata però credo che sia un concetto importante e vi consiglio di leggerne sul manuale cv e poi di spiegarmela per bene a me magari l'elaborazione distribuita che chiamarla in inglese render form mi piace molto di vorrei tanto provarla ma non ho reti e pc a cui connettermi per provare la scheda interfaccia a molti parametri di configurazione di alcuni abbiamo già parlato come per esempio impostare i tasti del mouse per il trimming o come aggiungere voce al pulsante shell usato anche il pulsante probe order per verificare se fosse abilitata la funzione ffmpeg early di cui abbiamo parlato nel video 2 il resto della schermata non l'ho toccata nella scheda apparenze ho messo il tema scuro a un flat e le icone see infinity 2 create da un utente il bravo sam come già detto precedentemente di default usa l'unità di misura della time bar impostata su ore minuti secondi frame ma possiamo scegliere altro con le varie flags ci ho giocato un po per vedere cosa succedeva mi sembra però di aver lasciato tutto a default la prima voce abilità le tips del giorno di cui abbiamo parlato ad inizio video la seconda e la terza sono delle notifiche di avvertimento e tanto vale lasciarle abilitati lo stesso per la quarta voce ma per ora non ho creato nessun blu ray quindi non mi è mai servita la voce sui pop up non l'ho ben capita l'impostazione del fuoco sull'input mi piace come utilità sorvolando con il mouse sulle varie finestre del programma diventano attive anche senza doverci cliccare sopra i due pulsanti del fuoco del testo servono a cliccare su una casella di testo o numerica per renderla pronta all'immissione e poi anche se si sposta il cursore del mouse il campo continua a rimanere attivo a me non funziona e anzi trovo noioso dover mantenere il cursore sul campo mentre ci scrivo nella voce always show next frame abbiamo fatto cenno nel video precedente usa miniature nella finestra risorse mostra il contenuto dei sorgenti oppure una generica icona in pc con molta memoria tanto vale lasciare il contenuto visibile infine nella scheda informazioni ci sono i copyright i link le note di rilascio e la licenza del programma mi sembra che nella cv ci siano riportati anche tutti gli autori mentre nella 5.1 sono menzionati solo adam williams e w p morrow cioè good guy bene meriti entrambi secondo il mio parere dato che siamo a far nomi vorrei citare e indirettamente ringraziare alcune persone cui video su youtube mi hanno introdotto al programma gli ha aiutato molto nella sua comprensione raffaella traniello la cui presentazione di sinelera ad un linux day oltre ad essere molto interessante ben fatta presenta dei filmati davvero belli peccato per il pubblico e non sembrava molto interessato suoi sono anche un paio di siti web per esempio sinelera for grand ma che sono i migliori per capire il programma almeno secondo il mio punto di vista poi c'è la serie di video in lingua spagnola di juan luis fernandez gallo che è fatta benissimo praticamente è stata l'ispirazione dei miei video ma i suoi sono più completi chiari e ben fatti si capiscono bene anche se sono in spagnolo ci sono alcune serie in inglese ma non le so giudicare a causa della mia pessima comprensione della lingua tutti i link sono riportati in descrizione adesso passiamo alle omissioni come già detto i miei video sono una semplice lettura del manuale con approfondimenti ed esempi delle parti più ostiche ma ho coperto solo una piccola parte del manuale lasciando fuori tanti capitoli importanti forse farò una seconda serie di video con altre parti ma ne riparleremo fra poco ora vorrei fare l'elenco di tutte le parti mancanti sia del manuale cv che 5.1 in modo che possiate farvi un'idea complessiva 1 installazione da sorgenti o da binari il manuale è già chiaro di suo e casi da coprire sono troppi potrei parlare solo della mia distribuzione cioè arch linux ma come ho già detto non lo farò i due manuali valgono solo ed esclusivamente per le relative versioni 2 configurazione ne ho già parlato prima ma le parti da approfondire sono ancora molte sinceramente non so se lo farò mai ci sono novità della 5.1 quindi si devono leggere entrambi manuali decodifica e caricamento file questi sono argomenti fondamentali ma sinceramente non ci capisco quasi niente devo studiare ancora molto prima di poterne parlare si devono leggere entrambi manuali ma il rischio di far confusione complica la lettura alcune cose sono simili altre diverse e altri non hanno il corrispettivo infatti ricordatevi che la 5.1 ha integrato ffmpeg in modo completo come motore di default e questo lo diversifica molto dalla cv plugin effetti e transizioni altro argomento fondamentale che ho saltato senza ritegno probabile farò dei video sui più importanti cattura video direttamente in sinelera ci sono diversi aggiornamenti nella 5.1 ma la base è sempre sul cv non credo affronterò mai questo argomento perché proprio non mi interessa render altro argomento fondamentale c'è la solita confusione fra le nozioni della cv e tanti aggiornamenti della 5.1 ci voglio assolutamente tornare sopra ma non a breve perché devo studiare e capire troppe cose anzi se qualcuno mi vuole aiutare ben venga nelle ultime versioni della 5.1 sono stati introdotti tanti semplici preset per avere ottimi e vari rendering senza entrare in complicate configurazioni questa parte in continuo sviluppo ed è già cambiata moltissimo tra la fine del 2017 e inizio del 2018 cioè il periodo in cui ho realizzato i video chissà cosa ci riserva il futuro tips il manuale cv riporta alcune tecniche per fare cose molto interessanti l'unica che ho provato cioè la realizzazione di un audio dolby 5.1 non mi è riuscita ma non ho approfondito molto e ho lasciato perdere subito il mondo del suono sembra ancora più complesso di quello grafico però mi affascina e prima o poi lo affronterò altre tecniche esposte riguardano per esempio il migliorare un vecchio video televisivo per donargli un aspetto da film oppure d'interlacciare un video tv oppure applicare un gradiente per simulare un cielo azzurro o ancora creare una suoneria per smartphone e altre ancora vi ho incuriositi vero e allora leggete il benedetto manuale cv approfondimenti tecnici sono cose quasi da programmatori come per esempio creare nuovi plugin e installarli in sinelera oppure la gestione del renderer open gl la gran parte si trova sul manuale cv ma ci sono elementi nuovi anche nella 5.1 io non ci provo neanche ad affrontare questi argomenti almeno che qualcuno di voi sappia farmele capire problemi comuni e workaround schema di tutte le shortcut in sinelera e ultimo capitolo la licenza gpl bene continuiamo con le chiacchiere semmai farò altri video in futuro gli argomenti che tratterò sono 1 gestione dei codec nell'importazione e nel rendering 2 batch render argomento molto importante e utile 3 uso dei dei proxy per snellire il workflow è una grande novità della 5.1 4 nested assets 5 finestra mixer e multi screen per gestire più sorgenti contemporaneamente in finestre viewer separate 6 creazione e salvataggio di preset personalizzati poi ci sono i plugin più importanti 1 titolatrice 2 color correction 3 motion tracker 4 rallenty avanzamento veloce 5 chroma key 6 rotoscoping 7 prospettiva blur sharpen e scala insomma gli argomenti per una nuova serie di video non mancano quindi chissà ci potremo rivedere da queste parti in conclusione posso dire che sinelera è davvero un bel programma ottimo per chi vuole imparare il video editing ad un livello molto alto sarebbe ottimo anche per semplici e leggeri video per youtube come lo uso io per esempio ma ho il sospetto che questi casi l'utente non ricerchi la velocità e la completezza ma la comodità in realtà nel primo aggiornamento della 5.1 del 2018 è stato introdotto da un utente un preset di rendering per ottenere un video youtube compatibile in vari livelli di qualità oltretutto il tutto con un semplice click più facile di così spero che con l'aiuto di questi tutorial possiate apprezzare questo programma e ricavarne molta soddisfazione qualunque sia il motivo che vi ha portati verso il video editing